Prego i consiglieri, prego i consiglieri, prego i consiglieri, si procede con la pelle, vuole 18.59. Prego, si prenderà. 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 Campanese Salvatore, Grillo Salvatore, Barone Lucenzo, Giocitto Capra, Lio Teresa, 7 presenti, 10 assenti, 10 assenti, non si raggiunge duro, il caso del rimpianto di secondo dopo versione, il giorno, mercoledì, 1, 19 e 3 minuti. Grazie.